l'essere umano mente astutamente molto spesso a se stesso agli altri e mente così tanto e così bene che finisce per credere a quel che dice che le guerre servono per esempio è la sua più grande menzogna della quale proprio non riesce a fare a meno di pensare che si avvera così come quando si convince di aver ragione pur nei momenti in cui il torto lo soverchia inoppugnabilmente ed è capace di ogni stratagemma perfino di mentire ulteriormente dopo essere stato messo alle strette inopinabilmente e lo fa allo scopo di dimostrare a tutti coloro che per nulla stupidi e che comunque mai gli crederanno di non essersi sbagliato la verità deve essere detta anche se il mondo dovesse andare in pezzi urlava un filosofo ma il problema principale è che per dirla bisogna prima averla gli rispose un collega che per dirla bisogna di avergliato il socio la storia Grazie a tutti.